Siamo in piazza Zumaglini a Vercelli, io sono Cristiana, Cristiana Folin. Volevo spiegarvi un po' come funziona il progetto Segnale Libero che partirà a metà novembre. È stato presentato ieri nella sala giunta del Comune. È un'idea che è partita dall'assessore Cressano di riqualificazione delle cabine dismesse. Telecom ha messo a disposizione delle cabine a cui è stato tolto il telefono e si è preso spunto da un'attività culturale che già in Europa e comunque anche fuori d'Europa ha preso piede che è quella della riqualificazione e riconversione delle cabine telefoniche a scambialibro opere d'arte. Inizialmente giustamente ha preso contatto con l'associazione Libriamoci di Lorenzo Proverbio che ha accettato di buon grado e si pensava di fare soltanto una riconversione a scambialibro. Poi Lorenzo ha pensato fosse più interessante dedicare spazio alle opere d'arte e agli artisti di città e non solo. Io sono stata coinvolta in questo progetto insieme ad altre persone. Mi è stata assegnata una cabina nella quale io farò fotografia che è quella di cui mi occupo essenzialmente. Saranno protagonisti anche Caterina Del Nero con le sue creazioni, Fiorenzo Rosso che ha un progetto molto interessante per questo avvenimento. Farà una cabina oscura quindi svilupperà foto all'interno della cabina aiutandosi con la luce esterna. Ci sarà Cristiano Luparia che è un writer vercellese. Emanuele Baccinelli che è un fumettista, Cilione e Giva, C e G, che si dedicheranno alla parte musicale. Mi perdoni che io ho dimenticato perché le cabine sono sette e quindi magari ho dimenticato qualcuno. Una sarà dedicata assolutamente allo scambialibri ed è davanti all'ospedale perché si è pensato che fosse la zona più adatta. Le cabine sono sparse per Vercelli, si può trovare tutto sul sito www.segnalelibero.it che è già parzialmente attivo, la mappatura c'è. Il progetto, ripeto, partirà a metà novembre e consisterà nel riattare la cabina a opera d'arte. Io, ad esempio, la mia cabina non sarà questa, sarà davanti ai giardini Camana. Quindi io sto portando avanti un progetto mio fotografico che si fonda su fare delle foto nella mia vasca da bagno per cui porterò anche lì una foto particolare e trasformerò la cabina in un bagno, metterò delle piastrelle, metterò un doccino, la tenda e siccome vorremmo che in ogni cabina avvenisse qualche happening, qualche bel evento per poterla fare viva, io punterei a fare le foto all'interno della cabina, portare avanti il progetto in questo modo. Per esempio, Ciglione e Giva sicuramente faranno degli happening musicali. E quello a cui tengo particolarmente, cioè che vorrei sottolineare, è che il progetto non finisce qui. Cioè, di due mesi in due mesi le cabine verranno riassegnate e il team di cui anche io faccio parte si occuperà della buona condotta, del progetto, della buona continuazione e a proposito di buona condotta speriamo che non le vandalizzino troppo perché per noi sarebbe importante che i vercelesi capissero lo sforzo che ci stiamo mettendo e quanto ci stiamo dedicando alla cultura. Grazie. Grazie.